Consigliera Di Roberto, oggi presentate quest'intergruppo. Come è nata questa iniziativa e quali sono gli obiettivi? Allora, la mia idea è nata guardando ad altre esperienze, sia italiane che europee, come anche quelle internazionali. Noi sappiamo che anche in Parlamento abbiamo un intergruppo trasversale a cui hanno aderito 80 donne, in maniera multipartisan, diciamo. Sulla base di questa riflessione ho avuto l'idea di questa iniziativa. Ho coinvolto tutte le consigliere comunali neoelette, ma soprattutto anche quelle della minoranza, che ringrazio subito, pubblicamente, per aver aderito. Chiaramente abbiamo condiviso con il nostro sindaco, con il presidente del Consiglio, trattandosi di appunto un'iniziativa consigliare. Cosa ci proponiamo di fare? Di essere promotrici in Consiglio comunale di azioni positive, politico-amministrative, che vadano a monitorare innanzitutto l'incidenza che queste attività politiche hanno poi, come si ripercuotono nella vita pratica della donna, in una realtà in cui, se è vero che non abbiamo, fortunatamente abbiamo fatto tanti piccoli passi, ma che poi si sono rivelati di conquista sui diritti della donna, ma è vero pure che ci troviamo comunque in una realtà socio-economico-politica per la quale esistono delle innegabili diseguaglianze.